in tutta la mia vita da sempre fin da quando ricordo sono sempre stato così cioè penso di essere nato così e diciamolo è sempre stato un problema in tutto il mio relazionarsi è sempre stato un problema in molti pensano che sia un problema tipico dell'ego ma non è colpa mia cosa posso farci io non penso di poter cambiare signor ciupante della fregna diamoci del tu culio il suo caso è molto singolare ci sa che cosa avrebbe fatto il mio maestro poi me che cosa ne pensa signorina vacca il padre tu che rapporto hai con tuo padre beh con mio padre ho sempre avuto un ottimo rapporto non posso credere che tu sei mio figlio tu non puoi essere un ciupante della fregna mi parli di un suo sogno ricorrente cioè così non saprei devo pensarci un pochino ma se ci riesce anche pino dai pino raccontami il tuo sogno lungo a te mitico pino la ricerca del tuo io più nascosto dai frutti da noi desiderati ah certo sì ci sono pensandoci bene un sogno c'è culio amore mio io ho bisogno di leggerlo nei tuoi occhi non mi bastano le tue parole ho bisogno di vederti ridere ho bisogno di vederti piacere i tuoi occhi il tuo volto il tuo corpo devono farmi capire che mi ami ma perché non mi abbracci ho bisogno di un tuo abbraccio ho bisogno che tu mi trasmetta ciò che provi ma perché non mi abbracci perché non mi guardi e mi vai capire che sono importante per te ma culio perché non riesci a trasmettere ciò che provi non posso perché io non posso io non posso ma 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 ma